In questa gara siamo alla specchietta della Valente Scali con Pan Amos Allo specchietto della Valente Scali con Pan Amos Allo specchietto della Valente Scali con Pan Amos Allo specchio Allo specchio Allo specchio Chiatto della Valente Scali con Pan Amos Allo scala Allo scala Allo scala Allo scala Allo scala un'altra parte notizia, mancina a 7.6 andava a 7.6 era stato solo giro non parte di quasi 30 40 km 0,6 il suo mercato sale a 12 secondi, 133 millesimi, mentre Mosley ha girato il ruolo 50-850, questo in questo momento ha praticamente congelato 1 secondi, che sono 30-5 secondi, è un' Shawano di un'Aggio che si è iniziato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.